Allora, siamo in attacco su... Riesci a fare i pronostici, Restive? Costa. Restive, è inutile. Costa, porta. Siamo su Costa, in attacco, ok. E siamo in West Europe, stranamente. No, Restive, è solo in privata, è inutile quella cosa. Ebbè, non è che dice che è bugato, perché proprio si vede lui che fa tipo QED, spam al QE. Spam al'inclinazione destra-sinistra. Ma andiamo a Monti, allora, piuttosto, cioè, tra le due. Ma sì, ma tanto siamo su Costa. Cioè, su Costa vanno bannati due operatori. O Monti, o Blackbird. Se è stato bannato Jekyll. Comunque la gente ce l'ha con sto Gapken. Sta pagando. C'è fissa questo Gapken, c'è? Eh, ma Gapken, ma perché la gente magari puscia, non si accorge neanche che c'è una trappola. Aspetta, sembra che lui è riuscito, il tipo questo qua, è riuscito ad andare da PC e entrare nei server di console. Per questo c'è la cosa da inclinare. Ma? Ma è la cosa che diceva Restive? Mi sa di sì, perché è uscito il video... Ma quindi i server ci sono? Ma perché non fanno i crossplay sti bidoni? Se server ci stanno? Crossplay, più meno, è riuscito a hackerarlo. Ho capito, ma fai allora, non giuro un cavolo. Fai sti cacchio di crossplay. PC console. Ma sai quanto pubblico prende? Ma porco due. PC console. Fai un rank. Cioè, fai proprio una sezione a parte. No, ma che parte fai le ranked casual tu puoi giocare, cross o non, decidi tu col pulsantino, la leva, metti. Ah, sì, sì, esatto, esatto. Le cose, così posso giocare con gli amici, su console, le modalità extra, le casual, le ranked. Le ranked no, vabbè, ma sti cavolo. O magari anche le ranked non le decidi tu. No, 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 no. Ma non è per noi, cioè, a noi andrebbe bene. Non penso che quella di una console accetterebbero, cioè, metterebbero il crossplay on. Alcuni pazzi, sì, per fare i fighi, per capire. Sì, tipo quelli che vediamo nei video farebbero... Sì, magari, vedete come distruggo su PC, poi vengono scopati. Mega clickbait di... Ci vediamo, non fa troppo. Distruggiamo un stack di PC player. Questi quei video che ci sono adesso, no? 5 PC gamer contro 5 console gamer. Let's go! Sono tutti da PC alla fine, perché ovviamente è l'unico modocano per giocare. Eh, ma il problema di mettere il controller dal PC è che i rinculi sono tutti sbagliati, sono quelli difficili. Eh, sì, sono quelli del PC. Oh my god, ragazzi. Siamo partiti, penso, molto bene, comunque. No, no, ma questo è un buono snack, qua. Uno in acqua. Allora, un grande inizio di prestazione per l'Albinolef. La grande Albinolef. Eh, sì. Con Polfi leader, come fai a perdere? Leader dei Trimoni. Morto uno. In 4VIP. Blackpid, can you join the battle? Allora. Sei qui. Allora, dron bridge. Stanno calmando, sti, bastano. Hanno pure melusi, a farci rove. Oh my god. Allora, hanno melusi, melusi un pull. Ok. Eh, il problema è... Un giudio tra la bomba. Allora, è morto. Uno. Ce n'è una dalla bomba. Questa è lì, assolutamente Porta zero di vita Questa è uno sotto Uno sotto? Uno è il vaso, top goal Vedete me lo si Vedete se mi pusha da main Sì Questa è il vaso Questa è il vaso Questa è il vaso Questa è la porta Questa è la porta Da me pull Ah era già entrata Stavo facendo una giocata a decristo Punto com, 4 kill Nooo Ah 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 Sto mentale chat Io sapevo che quella babbana Mi pushava da main Ovviamente piango Piango totalmente chat Fuuuck Io ho best aim Best aim Internalmente Cosa è un bidone Polfi? Ma no Ma tu non mi sto lasciando L'ho visto io No, me e io Infatti vai sotto Ciao Steve come va? Sono rotta Ma grave Allora Signor Polfi Quando hai che fare l'abbonamento? Eh? Guarda che si farà perdonare Eh? Guarda che si farà perdonare Non mi obblicherete mai Lo farò mai Ok Non hai ragione perché sei un pezzo di merda Ok Caid ancora? Non hai capito un cavolo Non ho capito un cavolo Non ho capito un cavolo Non ho capito un cavolo Ho capito un cavolo Ho capito un cavolo Ho capito un cavolo Ma non ho capito un po' Sanabbo con la Fuuuck 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 Capito? No ma lascialo stare Non c'ha soldi Poi mette la gamma E c'ha 400 euro nel portafoglio Capito? Vabbè ragazzi Vabbè però c'è Porco due Cioè mi fai Provi a fare lo spawn kill Che c'è scritto Polfi? Tacci tu Dai ragà Sembravo Polfi Sembravo Sì Cioè mi fai sapere Comunque so chi c'è? Com'è sopra? Eeeh, sto ne... C'è sto... Uno qua sul basso, basso Non c'è nessuno che guarda appunto... No dai, non sei serio che mi hai messo Grazie Forse c'è uno solo a uno Ma non c'è neanche uno in side? Sì, ce n'è uno in side Ma c'è... o no? C'è la cavera qui sotto Ah uno sotto la verticalità? Sì Sotto la verticalità proprio lì che è sotto che ti guarda C'è tutta vera Ma non proprio close al muro, attaccato al muro Ok Era lui mi sa, sì sì era lui Eeeh, hai un drone Allora Ho la can dead clear Ultimo eco, eco... Let me try Vai Oh wow Mmm? Guarda che è un po' che parte Non l'ho sentito eh Boh Mmm Non l'ho sentito Faccio anche una puna cap can anche lì eh Forse dietro Destra Non hai in side Non hai in side L'ho detto io Mi sarai in bagno mi sa Ah ma è eco, è normale Eh, dentro le trapp... Chi lascia? Tentare che le trappe anche qua che non lo so Non ci sono Eeeh, boh Non c'è tempo Eh no? Non è che c'è... ci sono dieco Droni Mi cerca di distruggere Dai destra Scop, scop Scop Lì Ma peraltro l'ultimo era una scoperta Sound totale Vai, pronto? Eh no, c'è il vartico È estragliato qua, è tirata dalla porta Dalla porta di kitchen No, non è estragli Dov'era? Dalla... Sotto, ho estragliato dalla kitchen Oh mio dio Eeeeeendedì Oh, no, 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 nel senno Ma era quasi ovvio Oh dio quasi ovvio Quasi ovvio Sì, cioè nel senso Se avessi di cheat, sì, ma... Per un secondo pensavo fosse in Sunrise o in blu Io in server Eh sì, quella zona lì insomma CristoCamp Bottofram Ok ragazzi vi ricordo che se avete Amazon Prime l'abbonamento è gratuito Punto esclamativo vantaggi in chat per sapere tutti i vantaggi Abbonati, inoltre vi ricordo che abbonati non guardano la pubblicità E mi supportano Quindi abbonatevi subito Fuck 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 prendiamo il drone e guardiamo il drone che palle i miei bambini oh 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 non lo so che non lo so let's go let's go ok let's go ok let's go ok ah mister come va stavolta ci vale l'acqua cambiamo ma te di che mi da schifo ci sta parlando c'è uno in vip non lo so uno in vip un pinfo allora se esce da vip lo ammazzo fatto in sun ma non ce n'era uno in vip non lo so non l'ho vista ma sei sicuro sto salendo adesso la squadra è la porco 2 c'è uno in vip uno morto in vip l'avevo detto io c'era uno in vip c'è una cam la c'è una cam la niente è pulito guarda lì in mezzo uno in teatro un pinfo fammi romper la cam sono entrati in vip io un po' 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 no scusami sorry man un po' non un po' un po' un po' un po' uno doppia un po' un po' Sì, io ho ucciso maestro, quasi, qualcuno l'ha finito, era lì, ma non male che mi sono nascosto per ricarica Vabbè, Uka No, 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 no C'è un attacco Rendo Kaid Collocco tutto il muro Rendo Kastor che ci chiediamo Let's go Proviamo, chat, proviamo Ciao Simone, come va? Fai yard, uccido for yard Fai un coglione No, 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 mi scuola, mi scuola Ok, 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 mi scuola Ma invece no, robo Mi metto attaccati qua Che non vengono rotti da bravo Ok, si, si, ci pensa il mod, mister Ciao, go, 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 go Info? Da sotto, non sape questo terreno, no? Un rep d'acqua Bellato Stavano rompendo la porta Quale porta? Forse mi non è stata scala lei Porta Porta Ehm, ammile Insonerizzato, sound call 90 forse, 90 forse, 90 Ho, ho tetto o 90 Sound Uno rappel window A quanti uso Doc Revin in merda Fatta rappel Ok Per una mano orai forse posso correre No Però la vedo difficile No, no, I'm good Sunrise Non ho Twitch Buono, bravo Non so qualcuno Se ti ha parlato qualcosa Non ho rampa in alto Da sotto mi sparano Si, uno è Sunrise Sound Sound Mi hanno rotto la wind Mi hanno sgamato Blackbird, big window, full Stanno tornando Oh, sono stai droning Aqua Sto stai droning non so che c'è credo che acqua entra guardi la cam si il KB acqua acqua è venuto 2 blu 2 blu 2 Dio Dio santo Dio ne erano 4 comunque la perdiamo veramente così? la buttiamo veramente così? secondo Cap cavolo speriamo speriamo ragazzi non è bene non è bene let's go proviamo speriamo finiscano non è 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 un acqua poi poi un acqua un acqua ho un acqua un acqua che messa 1 1 3 4 4 5 5 9 10 11 12 12 14 15 15 15 16 Cali Ampellato da big E' un'acqua Buon'acqua C'è uno sotto Un'erappellato Uka No 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 Castel the connector is not working man I can't walk thru Dove sono se Mi ha tirato una nade da scoprano non posso venire perché cicali Se corri no Ma posso dire che cosa fa da window big Ma questo quasi chiuso come non so cosa non potevo passare Cacchio fa Uno cool vibes Io sono morto E ho capito che cacchio devo fare Uno è sotto in sun Acqua è clear Non so se la porta si è rotta aperta Una porta aperta Che partita buttata nel chest Ma stava non pica Eeeh spicca troppo non sono neanche entrati in site Nice try Non è un nice try Che partita